Un processo che era stato messo in moto dagli esposti di alcuni residenti che lamentavano esalazioni maleodoranti dalla Bufarini, azienda di Castelferretti nel comune di Falconara, che tratta rifiuti organici e industriali. Inquinamento ambientale e getto di sostanze pericolose, i reati contestati. Oggi la richiesta dell'accusa per l'amministratore Matteo Caimmi e il direttore tecnico Giordano Bufarini, due anni e 80 mila euro di multa. Un processo tecnico con prove difficili da dimostrare in assenza di precisi limiti di legge sulle emissioni. Emissioni che arrivavano da altre fonti, per esempio le fogne, un ex discarica ha ribadito la difesa degli imputati. Lunghissima la ringa. Ora non resta che la sentenza arriverà il 27 giugno. L'augurio più grande è che questo stato di fastidio, di disagio, di sofferenza, che poi diventa danno, perché per anni e anni questa situazione, irrisolta per anni, diventa danno, insomma, venga a cessare. Sette residenti parte civile nel processo che copre il periodo 2015-2018. I loro legali hanno chiesto 50-60 mila euro di risarcimento per danni sulla salute e patrimoniali. Il valore delle case sostengono è crollato.